Buongiorno a tutti, buona domenica e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Una situazione incresciosa sta succedendo negli ultimi giorni in quanto IMSS sta chiedendo gli arretrati a una particolare categoria di pensionati. Vediamo subito di cosa si tratta nel video che segue. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace all'interno del video per continuare a supportarci. Come detto in apertura di video negli ultimi giorni si è creata una situazione incresciosa per migliaia di pensionati in quanto IMSS sta chiedendo a loro arretrati. Trattasi dei pensionati italiani residenti in Bulgaria che si sono trovati improvvisamente di fronte a richieste di pagamento per tasse arretrate sulle pensioni percepite negli ultimi sette anni. Per lungo tempo questi cittadini avevano goduto dell'esenzione fiscale grazie a una convenzione di tipo bilaterale stipulata tra Italia e Bulgaria nel lontano 1988. Tuttavia una nuova interpretazione dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate avvenuta a giugno 2023 ha modificato radicalmente lo scenario. Secondo l'interpretazione originale le pensioni italiane non erano tassabili per i residenti in Bulgaria, un vantaggio che aveva attratto numerosi pensionati anche grazie al basso costo della vita. La revisione normativa ha invece stabilito che la tassazione dipende dalla cittadinanza non dalla residenza fiscale. Questo cambiamento ha portato a una retroattività dal 2016 con il recupero delle imposte arretrate e l'applicazione di sanzioni. Il risultato? Drastiche riduzioni degli assegni pensionistici in alcuni casi ben del 50% e in altri addirittura l'intera trattenuta degli importi mensili per coprire i debiti accumulati. Molti pensionati si sono quindi trovati senza risorse per affrontare spese essenziali come affitti e cure mediche. La mancanza di avvisi precedenti ha reso la situazione ancora più critica. A difendere i pensionati è intervenuta l'avvocato Margherita Cosa dell'Associazione Pensionati Italiani in Bulgaria che ha definito le sanzioni sproporzionate e ha scritto al vice ministro dell'economia Maurizio Leo per chiedere un intervento. Anche la Bulgaria ha cercato di mediare con l'Italia sottolineando potenziali violazioni del diritto europeo ma senza successo. Di fronte alla crisi alcuni pensionati hanno avviato battaglie legali ottenendo talvolta sentenze favorevoli in primo grado ma affrontando procedimenti lunghi e onerosi mentre altri hanno deciso di trasferirsi in azione con regimi fiscali più vantaggiose o di tornare in Italia. Voi cosa ne pensate a riguardo di questa situazione? Fatecelo come sempre sapere qui sotto nei commenti del video. Grazie